Ciao a tutti, oggi faremo un esperimento con delle margherite. Prima cosa dobbiamo raccogliere delle margherite nel prato, poi prendete tre bicchieri di plastica, metteteci dell'acqua e del colorante alimentare colorato, io ho preso il rosso, il verde e il blu. Mescolate e poi prendete le margherite che avete raccolto precedentemente, le tagliate e le inserite nei vari bicchieri, un po' nel rosso, un po' nel blu e un po' nel verde. Una volta finito, li lasciate qui e poi il giorno dopo, guardate, le margherite hanno preso colore. Ciao!